allora ragazzi buongiorno una solo una una richiesta salutisco una vostra richiesta mi è stato chiesto di far vedere come marchiare la regina con questo oggettino allora in pratica io di solito quando uso i guanti leggeri la prendo eccola qua non so se riuscite a vedere la regina la prendo per le ali la giro sopra l'altra mano la marchio e la rilascio tranquillamente in apiario quando si lavora nel telaio quando si lavora magari con i guanti spessi e su tante casse si va veloci non c'è tutta questa la possibilità di avere dei guanti magari più sottili e diventa complicato allora non facciamo questo non mi sono inventato nulla insomma gli amicoltori da sempre lo utilizzo non facciamo di questo la individuiamo la regina la avviciniamo con calma in questo caso già marchiata la fermiamo così vicino alla testa sull'addome sopra non vicino non solo l'addome e poi eccola qua la marchiamo praticamente questa già colorata la liberiamo lei se ne va tranquillamente nel suo telaio e nulla è successo l'importante fare attenzione a fermarla le appena appena sopra la testa dopo la testa non ovviamente nel torace nell'addome tra la testa e l'addome eccola qua così la regina è praticamente ferma come potete vedere lei non si muove e tranquillamente si può colorare un caro saluto 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 saluto